Io credo che noi dobbiamo davvero fare una riflessione importante, perché lo si disse già 5 anni fa, 4 anni e mezzo fa, quando fumo eliminati e non andavamo in mondiali, in Russia, e anche lì si fecero tanti discorsi. Poi però passa il momento, poi abbiamo avuto l'anno scorso la grande impresa degli europei, e quindi un po' tutto viene dimenticato, ma oggi io credo che questo vada fatto, perché il calcio italiano ha perso treni importanti in questi 10 anni, perché eravamo secondi nel 2012 come raccolta, come diritti televisivi, soltanto secondi all'Inghilterra, davanti alla Spagna, oggi siamo dietro alla Spagna, all'Inghilterra ovviamente con una distanza molto importante, dietro anche alla Germania, e quindi abbiamo meno risorse per fare quegli investimenti che sarebbero fondamentali dagli stadi ai vivai, investire di più, e allora ci vuole secondo me un aiuto anche da parte di chi governa il calcio italiano per fare quelle cose che in altri paesi hanno funzionato benissimo, tipo le academy in Francia, in Belgio, eccetera, e per dare un grande boost ai vivai, perché oggi secondo me quella è la parte dalla quale noi dobbiamo ripartire in maniera molto forte, non avendo quelle risorse importanti che altri hanno, perché hanno molti più diritti televisivi banalmente che non noi. Noi dobbiamo cercare un calcio sostenibile, cioè il calcio in cui ogni anno io ci metto 20 milioni non è una buona cosa, è una cosa che dopo un po' diventa difficile sostenere, invece ci vuole un calcio sostenibile, e questo va ripensato diciamo come sistema, perché sono aumentati i debiti, le perdite, tante cose. Secondo me ci vuole a livello generale, cioè più che fare la superlega, secondo me si tratta di fare un calcio sostenibile in cui metti anche dei limiti, perché ci vogliono, perché in momenti come questi la gente se lo aspetta, cioè in momenti in cui la gente a casa soffre, non ha risorse, c'è l'inflazione, le materie prime aumentano e poi c'è un paese, diciamo, c'è il paradiso terrestre, che però poi è un paradiso relativo, perché poi le squadre perdono molti soldi.